Salve a tutti ragazzuali e benvenuti in questo nuovo video guida dal vostro Dark Aos in the World Oggi sono qui per andare a completare una di queste missioni che ci richiede Trova manufatti d'oro vicino alla guglia La guglia in questo caso si trova qui a centro mappa Andremo direttamente qui ed andremo a vedere i tre punti situati dove trovare i nostri manufatti d'oro Quindi let's go in game Ok ragazzuali eccoci qui alla guglia Entrando da qui troveremo il primo pezzo che si trova precisamente qui alla sinistra della scritta la guglia Ok qui in questo punto preciso della mappa centrale ok Qui troveremo il primo lo andiamo a prendere e abbiamo trovato il primo manufatto Adesso andremo a cercare gli altri due che sono molto vicini Eccoci qua ragazzuali che ci troviamo in quest'altro punto Quindi uno è qui e l'altro si troverà qua ok sempre centrale della mappa Si troverà qui in questo punto esatto rompendo questa struttura quindi all'inizio della scalinata centrale Rompendo questa struttura qui troveremo il secondo manufatto d'oro che è il lava Adesso andremo al terzo ed ultimo Ed eccoci qua ragazzuali al terzo ed ultimo che si trova quindi uno qui uno qui e alla fine uno qui Sotto questa capannetta troveremo l'ultimo manufatto d'oro E quindi completeremo la nostra missione che ci darà 24.000 punti esperienza Beh ragazzuali io spero che questo video vi sia stato d'aiuto Mi raccomando iscrivetevi al canale attiva della campanella e il codice creatore del dark92 Per tutti i miei social li trovate in descrizione Che dire noi ci vediamo ad un prossimo video di Fortnite Bella ragazzuali Ciao 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 Ciao